Si dimette il ministro degli affari regionali costa di alternativa popolare, conflitto tra le mie idee e il mio ruolo, interim al premier. Gentiloni, la crescita c'è ma serve stabilità economica e politica, il governo farà di tutto per creare lavoro. 25 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella ha troppi errori su Borsellino, grasso la sua eredità più viva che mai. Rina resta in carcere, respinta dal Tribunale di Bologna la richiesta dei domiciliari per motivi di salute, il boss non mi pento. Francia in polemica con Macron, lascia il capo di Stato Maggiore, troppi tagli alla difesa, non posso garantire la sicurezza. Ancora giornata difficile per i roghi, chiuso per due ore, tratto della 1 a Roma Nord, incendio a Castelfusano, fermato altro piromane. Sisma, arrivano le prime casette ad accumuli, epicentro del terremoto della scorsa estate. Entro Ferragosto, dice il sindaco, torneranno a casa tutti gli sfollati, la commozione di che non ha mai lasciato il paese.